Ora non si è diventata nella vita quanto, quanto il fumo, quanto un odore, quanto cambiare non solo stato mentale, cambiare le nostre fulgine. A volte abbiamo creato delle connessioni con certi due anni di fante, con il mito, per esempio, prima di andare a dormire, quando c'è un odore, 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 Grazie.